È un problema proprio con un discorso lavorativo che con questi lavori fatti da poco già si è inciso molto sul lavoro immagino dopo con 8-9 mesi di lavoro cosa possa succedere a noi, al tabacchio, a tutti i fondi commerciali e più i residenti che non sono stati né avvertiti né sono stati interpellati di questi lavori. Lo abbiamo scoperto da chi lavora ora sulla strada. I commercianti di Via Catani sono preoccupati e hanno avviato una raccolta di firme contro i lavori finanziati con oltre 800 mila euro del PNRR con cui il Comune a breve intende ridisegnare il volto della strada dopo i lavori in via di conclusione di sostituzione della rete idrica da parte di Publiacqua. Il restyling complessivo di Via Catani, durata prevista a sei mesi, farà sparire i controviali. Sarà un'isola centrale alberata a dividere i due sensi di marcia, ciascuno dei quali sarà dotato di bike lane, una corsia ciclabile sormontabile dalle auto in entrata e in uscita dai parcheggi. Già quando uno parcheggia la macchina all'isca di pesce, immaginatevi uscire da un parcheggio che già comunque devi andare un po' indietro per uscire da un parcheggio. C'è una pista ciclabile attaccata dietro, io la vedo una cosa molto pericolosa. L'obiettivo è anche ridurre la velocità dei veicoli, secondo lei c'è un problema da questo punto di vista? Sì, in effetti attraversare è un casino qui. Io penso che sia giusto, quando fanno le cose la ciclabile fa comodo e tante altre cose. E quando fu due anni fa o tre, morì uno qui, attraversava e lo presero con la macchina e lo ammazzarono. Pericolosissima, no? Da quando hanno messo i dissuasori, le pedane per rallentare, non è pericolosissima. Basterebbe che ognuno rispettasse i limiti di velocità. Ridurre la sezione stradale di via Catani per ridurre la velocità dei veicoli che la attraversano. E' questa la filosofia dell'intervento, che rischia di appesantire ulteriormente il traffico nella zona. Essendo una strada di congiungimento tra via Ferruccio e via Le Marconi, fino alle 9 ci sono le code. Il pomeriggio non ritornano le code, perché comunque la verabilità lascia molto a desiderare. Quindi se noi restringiamo farà altra confusione. In questo, come in altri cantieri, fra cui quelli in via Strozzi, Confcommercio chiede al comune di ascoltare le esigenze delle attività. Il lavoro è veramente impegnativo, anche quello che sta colpendo quella zona. E anche in questa occasione abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione comunale, perché è importante gestire bene quello che può essere il timing dei lavori rispetto alle zone che sono più ricche di attività commerciali e imprenditoriali.